Prendiamo atto delle parole del Ministro che smentisce in qualche modo le notizie della Reuters. Speriamo di non essere ulteriormente sventiti il 17 e il 18 dicembre, quando magari queste sanzioni, anziché essere cancellate, verranno in qualche modo prorogate. Però cerchiamo di essere positivi e vi guardiamo effettivamente alla capacità del Governo, una volta tanto, di rispettare quello che è il mandato dato dal Parlamento, cioè di rimuovere queste sanzioni. Anche perché, contrariamente a quello che lei dice, secondo me voi non avete ben chiaro chi è il nemico. Perché andare ancora a ragionare in termini di sanzioni relativamente allo scenario ucraino, cioè nella difesa di fatto di un regime filonazista, perché di questo si tratta parlando di Ucraina, quando alle nostre porte ci sono decine, se non centinaia, di potenziali terroristi, quando alle nostre porte un Paese confinante è stato messo a ferro e fuoco da dei terroristi, ci sono 400, ci sono 400 fra morti e feriti e voi come risposta cosa fate stamattina, quando era anche lei presente all'Eliseo nell'incontro con Hollande? Dite, diamo qualche uomo in più in Libano, senza sapere, evidentemente voi non leggete neanche i giornali, Libano. Uno scenario, anziché andare direttamente a contrastare lo Stato islamico sul territorio, anche solo utilizzando dei bombardieri, andate a rinforzare uno scenario dove ci siamo coperti di ridicolo non più tardi di qualche giorno fa, quando una nostra truppa, un nostro blindato è stato assaltato da un gruppetto di terroristi dove vi siete fatti addirittura fregare una metragliatrice. E' questo il modo di affrontare il terrorismo? No, non è questo il modo di affrontare il terrorismo. Il modo di affrontare il terrorismo è porre sì delle sanzioni, ma nei confronti della Turchia, un Paese che anche oggi si è segnalato sullo scenario internazionale per aver mandato 800 fucili a pompa, e sono stati intercettati al porto di Trieste, ed erano diretti, guarda caso, in Olanda, in Belgio e in Germania, proprio attraverso uno spedizioniere turco. La Turchia che in qualche modo, e lo abbiamo visto e ci sono le prove, finanzia e sostiene militarmente lo Stato islamico, e voi invece non solo volete portarla all'interno dell'Europa, ma gli date anche 3 miliardi di euro. Sa con 3 miliardi quante azioni vere di contrasto al terrorismo si possono fare? Non regalate 3 miliardi a chi finanzi il terrorismo, datele a chi il terrorismo veramente lo combatte, datele ai nostri servizi di sicurezza. Grazie.